Oggi siamo qua come un giorno di protesta, l'industriale chimica farà un corteo simbolico verso la comune di Saronno, per una possibilità di 50 posti a esigere che sono stati dati a l'industriale chimica. Questo perché Bayer ha bloccato un nostro prodotto che fattura al 45% di fatturato totale e dopo questa sentenza che arriva come sentenza di secondo grado al Tribunale Torino, dove ci blocca questo prodotto, l'azienda ha messo in discussione 50 posti del lavoratore dell'industriale chimica. Siamo in attesa dopo il ricorso di eventuali aggiornamenti della situazione, però la situazione comunicata il giorno di venerdì è questa, 50 persone dell'industriale chimica sono di troppo. Non sappiamo come andrà a finire, auguriamoci per il meglio, essendo stata fino al 24 dicembre dell'anno scorso un'azienda con un fatturato in crescita.